Stamattina siamo venuti alle cave di Kelly Hill. Vediamo un po', tra poco alle 10 e mezzo si vanno ad entrare, questa è tutta la pasta di fuori. Una giornata di sole, anche oggi ci sono tutti i pappagalli. Stiamo nel bush, anche una pappaggia. Non mi piace, non mi piace, non stai studiando. No, no. Che stai studiando, Maeva? No. Ecco il pappagallino. Che carino il pappagallino. E' una pappagallino. E' un pappagallo il pappagallo. Maeva? È tutto muo. Maerika? Scoppto un po' di plastica. Sì, è trasparente, chiaramente. Ok, è trasparente. È acqua. 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 Sì, acqua. È questa cosa, mamma. La formazione è attiva. È un'acqua, è un'acqua. E un'acqua, un'acqua. Se non si non sembrava come un'acqua, come un'acqua. È un'acqua più come un'acqua. Perché ha i'acqua di questi elementi, sono un'acqua di queste lecce. È un'acqua di questa. È un'acqua di Genevieve. È un'acqua di Genevieve. Le due lecce sono lecce.